Una cena per dieci da Mimmo il Cozzarino, eh? Eh sì, vabbè, anche 25 cene al McDonald's, cioè se vogliamo mesterla. Anche 50 cene dal Che Babbaro, ma... No, non lo so, dubbio! Sono un corretore! X, ma la modifica bello! What's going on? E questo girava dieci anni fa. Ma quando il prossimo video è reale, eh? Che voglio diventare famoso anche io, eh? Eh? No! No! Non lo so, non lo so. Invece no! A quanto pare Peppino Malavidoso ne sa una più del diavolo! No ovviamente scherzo, perché questa è stata un'idea del gruppo dei modificati di Telegram. Spam di cuori viola in chat per noi. Tutto ciò anche grazie al consiglio fondamentale del più grande freebooter d'Italia Rocco Brasi e all'aiuto tecnico del Supremo Rai Zarts. Spam di cuori viola in chat anche per loro. I modificati sono tutti con me, ma soprattutto contro di te. Lo schema ha raggiunto il suo apice Ed è arrivato direttamente a chiamarti al telefono Scacco matto Andrea Ora esci i soldi Devi dire grazie che non ero in chat Quando ti ho scammato l'altra volta Altrimenti l'avrei fatto la sera stessa Per il tuo numero Ottimo Cioè è stato Il numero di questo Dai 2 ai 4 minuti E poi Oh ma cosa hai fatto allo schermo Era già rotto Quello schermo Non dirmi che è il monitor nuovo È il monitor nuovo Omi Omi È il monitor che hai comprato un mese fa Non so se è serata Che faccio appunto Grazie Denise Sei con la tua dea Non puoi sbagliare Pasta che Sono un pazzo No 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 Ma che fai ma giochi Ma sei fuori di testa Ma come Buono 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 Grazie all'asso Grazie all'asso Spero di no Spero di no Aspettate Sì F.R.A.T.N. Complimenti fratma Si è arrivata l'ora di svegliare il maestro Pratemi Non so se Wow Ma già stai È tuo È un rigore portavuota fratma Lo dobbiamo far Tutto cose Bravo bravo bradolli